Cambio ai vertici nella sede centrale del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Trieste Il comandante uscente Natalia Ristuccia ha passato il timone a Mauro Luongo che fino a poco tempo fa dirigeva il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Vicenza Nel corso della sua carriera il comandante ha coordinato innumerevoli soccorsi come quello del sisma del centro Italia e il terremoto dell'Aquila del 2009 Ho trovato una situazione diciamo standard nel senso buona ovviamente con le criticità che abbiamo un po' tutti pubbliche amministrazioni ma insomma in genere tendo a non parlare delle carenze di organico di mezzi che abbiamo ma guardo in avanti e guardo alle cose da fare, alle cose che sono già state impostate e che quindi tenderò a proseguire e a migliorare se non a chiudere nel migliore dei modi Il sindaco qualche giorno fa ha incontrato il nuovo comandante esprimendogli i più vivi auguri di buon lavoro e gli ha offerto in dono lo stemma rossa da Bardato del Comune di Trieste Il sindaco mi ha parlato ovviamente delle criticità e dei problemi della città ovviamente del porto, di tutti i vari progetti che sono in itinere e dello stadio fondamentalmente ma ovviamente ci trova al suo fianco come sempre abbiamo fatto e sia nella collaborazione che possiamo dare in termini di sicurezza sicurezza contro l'incendio ma sicurezza in senso lato io direi nelle opere, nelle grandi opere, nelle costruzioni ma soprattutto nel soccorso alle persone e quindi nel lavoro quotidiano che noi facciamo a favore di tutti i cittadini e le comunità Vorrei aggiungere una particolarità che ho trovato qui a Trieste che è già avanti rispetto a tante realtà il progetto dell'inclusione cioè l'attenzione per noi soccorritori alle persone meno fortunate di noi Grazie a tutti Grazie a tutti.